Avevo io una volta una specie di sostegno per il telefono, se riuscissi a mettere in una certa maniera potrei farvi vedere un trallazzo si potrebbero allora allora misura presa poi ci faccio ci faccio Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' una femmina. Questo è troppo grosso. Questo ci siamo. Il maschio, il maschio, il maschio. E' una femmina. Volendoci, avrei anche curvato come quello originale. E' una femmina. 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 Ok. E' una femmina. No, ci do un giro di nastro. Ora, la prima cosa che faccio è provare il filo perché mi rimane la spia dell'asta dell'olio accesa. A limite, ho anche un altro bulbo che posso provare a cambiarlo. E' una femmina. Lo so, non è proprio bellissimo. Non è proprio bellissimo. Ora, lo so, non è proprio bellissimo. E' una femmina. 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 a 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 devo andare a intuito poi oltretutto non ho spazio di manovra per la mano ce l'ho fatta ce l'ho fatta a lui facciamolo passare dietro così ok ok io però una spruzzatina anche questo gliela darei che 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 Grazie. Niente, si è fatto il filo ma non è il filo e che resta sempre accesa la spia. Quindi 99 su 100 dovrò cambiare il bulbettino lì. Due. Questo è bene. Va bene dai, rimontiamo tutto e per oggi finisce qui. Grazie. 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 Grazie.